Quando mi è stato chiesto di distribuire insieme al mio partner, il socio Alberto De Venezia, la pellicola di Massimo Bonetti che conosco fra l'altro da tanto tempo come un bravissimo attore e un regista che ha dimostrato oggi veramente di essere molto ma molto valido, non avevo visto il film perché comunque La settima onda è un film un po' particolare, pieno di emozioni e non tutti i distributori si sentono sempre a distribuire questi film così, soprattutto all'opera prima. Invece appena l'ho visto, ho chiamato Alberto e ho detto distribuiamolo e quindi con le nostre piccole forze cercheremo di portarlo in tutte le sale italiane. Grazie.